come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto bene questo è uno dei video che esce tre volte la settimana lunedì mercoledì e venerdì e in questi video vi spiego le cose come stanno quindi come dico sempre mettetevi comodi e guardate il video fino alla fine poi dopo che vi siete iscritti mi raccomando sempre tanti like come che vi dico che a voi costano veramente pochissimo dovete solo andare qui sotto e cliccare sul tasto like quindi a voi dovete solo schiacciare lì non dovete fare altro però in realtà fate capire a youtube che il primo il video magari vi è piaciuto e comunque è anche un ringraziamento nei miei confronti che vi presento sempre tante novità e ve le spiego per bene quindi forza con i like bene adesso che avete messo like possiamo partire con la prima informazione di oggi oggi rispondiamo un paio di domandine che ho ricevuto in questi giorni nei miei sotto i video in merito al segno di inclusione supporto formazione lavoro e reddito di cittadinanza quindi partiamo con la primissima domanda e poi vediamo anche cosa ci dice direttamente il ministero che poi vi lascio come come sempre i collegamenti qui sotto nella info box di questo video la prima domanda è questa qua come si definisce la condizione di svantaggio e che certificazione è necessaria il ministero ci dice che con un nuovo decreto attuativo quindi al momento non si sa ancora molto bene come funzionerà ci ha dato solo delle indicazioni verrà poi chiarito il tipo di certificazione necessaria che serve per tutte le diverse categorie di svantaggio per ora ci dicono che a titolo di esempio si considerano in condizione di svantaggio diciamo queste categorie se volete prendervi nota carta e penna io ve l'elenco poi magari tornate un po indietro nel video e ve le scrivete ve le appuntate quindi abbiamo le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità le persone in cariche servizi per le dipendenze persone in cariche servizi per le donne vittime di violenza carico di servizi psicologici per la salute della persona le persone in cariche servizi per la malattia psichiatriche e le persone senza fisse dimora che a quanto pare devono essere iscritte in un registro e sono in carico ai servizi servizi territoriali servizi sociali territoriali prima di andare avanti con la l'altra domanda vi ricordo che il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale c'è la diretta live quindi adesso che ci stiamo avvicinando all'inverno ormai più o meno l'inverno e alle porte sono ricominciate appunto le dirette live sul mio canale quindi voi dovete ricordarvi giovedì sera 21 e 30 diretta live sul mio canale di youtube diciamo che è un momento per tenerci compagnia per rispondere alle domande fare domande ricevere risposte dare risposte alle alle domande ci teniamo compagnia una mezz'oretta tutti i giovedì sera alle 21 e 30 bene ritorniamo alla nostra domanda la nostra domanda e l'altra domanda è questa qual è il primo passo che il richiedente a di assegno di inclusione dovrà compiere il richiedente dovrà presentare telematicamente all'inps la richiesta dell'assegno di inclusione l'inps dopo informa richiedente che per ricevere il beneficio economico deve fare l'iscrizione presso la nuova piattaforma digitale sisle che al momento è un gran casino ve lo dico già perché me lo stato scrivendo in tantissimi sotto i video questa iscrizione al sisle serve per sottoscrivere il patto di attivazione digitale autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda alla domanda ai centri per l'impiego alle agenzie per il lavoro agli enti autorizzati all'attività di intermediazione e anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro queste erano le due domande di oggi poi man mano nei prossimi video vi risponderò ad altre domande sempre sull'assegno di inclusione perché ormai ci stiamo avvicinando a gennaio quindi è giusto arrivare a gennaio pronti e preparati per poter fare domanda dei dell'assegno di inclusione del buon sono quello che sarà cambiamo argomento parliamo di un'altra questione velocissima velocissimo visto che questo video esce il primo di novembre questa mattina alle 8 c'era la possibilità di richiedere il bonus trasporti io spero tanto che l'abbiate chiesto perché visto che comunque è stato intanto rifinanziato poi sono stati messi in campo i soldi che avanzavano dalla richiesta del mese scorso e a questo punto tra l'altro soldi di gente che o non l'ha chiesto tutti i soldi che avanzavano tutta la gente che o non l'ha chiesto o che l'ha chiesto e manco l'ha attivato quindi diciamo che c'erano molti più soldi in campo rispetto al mese scorso io spero a questo punto che l'abbiate chiesto fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci siete riusciti se avete avuto dei problemi se è andato tutto a posto insomma raccontatemi un attimino la vostra esperienza con questo benedetto bonus trasporti che il mese scorso mi avete praticamente sommerso di messaggi dicendomi e io ho fatto domanda però alle 8 e 01 era già stato chiuso tutto quanto è praticamente non si poteva più richiedere niente quindi sono curioso di sapere se ci siete riusciti altra cosina interessante nel nuovo capitolo di questo video è quello che riguarda il carrello della spesa anti inflazione perché a quanto pare sono aumentati i negozi che offriranno dei prezzi scontati sui prodotti alimentari e per la cura della persona in pratica quello che il nostro governo ha chiamato il patto anti inflazione adesso vi spiego cos'è poi vedo la mia la mia idea ecco il patto anti inflazione avrebbe l'obiettivo di ridurre il tasso di inflazione che oggi praticamente grava sui carrelli della spesa dalle persone e così dal primo di ottobre fino al 31 di dicembre i punti di vendita aderenti attenzione non tutti è perché per esempio nella dove abito io ci sono quattro supermercati ma solo due l'hanno fatto gli altri due grazie arrivederci in pratica questi punti vendita non possono proporre a prezzi calmerati quindi prezzi bassi tutta una serie di prodotti di prima necessità che sono alimentari e non tra l'altro questa promozione non riguarda solo una categoria di persone chi ha l'ese basso che ha le sanno riguarda praticamente tutti i cittadini quindi tutti possono accedere a questa promozione e cosa è successo che io sono io giro nei supermercati di che vado a fare la spesa e ovviamente sono andato a vedere anche nessun in due supermercati di marca diciamo così no non i discount ma anche se ultimamente ormai discount parlano se chiaro hanno gli stessi prezzi dei supermercati di marca quindi poi se volete un giorno l'altro vi spiego vi spiego la mia politica di come si fa di come poter fare la spesa e come poter risparmiare però tornando a noi io sono andato a fare un giro nei supermercati di nei due supermercati di marca qui vicino c'è una marea di cartellini non si capisce quali sono i prodotti scontati quali sono i prodotti in offerta quali sono i prodotti del trimestre c'è una marea cioè voi andate nelle corsie sono 8 milioni di cartellini non si capisce più niente addirittura uno dei due supermercati io ho chiesto ma quali sono i prodotti del trimestre anti inflazione e sapete cosa mi hanno risposto a noi non aderiamo questo è poi magari gli altri lo fanno comunque questo qui mi ha detto a noi non aderiamo perché abbiamo già i prezzi buoni e scontati nostri interni non so cosa e quindi noi non aderiamo e allora io mi sono detto ma allora questa cosa funziona o non funziona perché se voi avete gli sconti già i prodotti scontati mi spiegate che cosa serve questa cosa qua questo non l'ha capito se voi l'avete capito fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono veramente curioso cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione allora qui ogni tanto ci dimentichiamo di di chiedere questo bonus non vi preoccupate perché come sapete io sono sempre lì pronto a ricordarvi le cose quindi vi ricordo a questo punto che dal primo di settembre è nuovamente attivo lo sportello telematico per presentare la domanda del sostegno al reddito sar per il 2023 questo sostegno viene pagato dal fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione ve lo ripeto piano fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione e tra parentesi forma temp il bonus sar è rivolto ai disoccupati che hanno cessato il lavoro con un contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato ricordatevi anche che questo sostegno viene pagato una sola volta quindi è considerato una tanto è l'importo varia a seconda della categoria professionale quindi la categoria lavorativa del richiedente l'importo va da un minimo di 780 euro a un massimo di 1000 euro lordi attenzione lordi la domanda di sostegno al reddito deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema che si chiama ft web collegandosi al sito internet di forma temp oppure ci si può rivolgere a uno dei tantissimi sportelli sindacali di settore che esistono in tutta italia loro vi aiuteranno magari a compilare la domanda fare richiesta compilare i documenti e quant'altro quindi secondo me magari conviene andare da loro che risolvete tantissimi problemi e così inviate la domanda e buonanotte sognatori poi comunque non vi preoccupate perché qui sotto vi lascio due collegamenti uno è quello del sito internet di forma temp e l'altro riguarda un mio vecchio video dove vi spiegavo tutto quanto era un tutorial fatto molto bene quindi per tutti quelli che sono interessati a questo tipo di bonus possono intanto avvengarsi a vedere il vecchio tutorial che avevo fatto non ricordo se l'anno scorso l'anno prima ancora non ricordo esattamente comunque in quel tutorial è spiegato esattamente tutto quanto perché è stato uno dei primi sono stati i primi tutorial che facevo e quindi diciamo erano quelli un po più impegnati quelli dove si capiva bene si spiegava bene avevo anche più tempo a disposizione quindi li facevo magari la qualità della registrazione non è il top perché all'epoca la qualità della registrazione non era proprio il massimo come adesso però diciamo che non ci va bene la qualità ma anche il contenuto è molto importante e quindi davo più senso davo più senso una volta al contenuto che alla qualità poi la qualità dei video è migliorata con il tempo ma questo va a vantaggio anche vostro bene siamo arrivati a quasi 12 minuti di video io prima di concludere vi ricordo il giovedì sera alle 21 30 sul mio canale di youtube per le nuove dirette live prendetevi nota sul calendario tutti giovedì sera alle 21 30 sul mio canale di youtube dirette live adesso che iniziata la stagione invernale ricordatevi di mettere tanti tantissimi like a questo video qui sotto basta cliccare il pollice in su ma voi costa veramente poco come vi ho detto prima dovete schiacciare un tasto è buono nel secchio però aiutate il mio canale a crescere bene adesso che avete messo like io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube quello che alla fine vi fa i conti in tasca a presto ciao